L'area di Napoli è un bene comune. Fai controllare il tuo impianto di riscaldamento e raffrescamento per avere più efficienza, più risparmio, più sostenibilità. Il Comune di Napoli raccoglie e analizza i rapporti tecnici e organizza le ispezioni degli impianti termici cittadini. Cittadini, aziende e imprese hanno l'obbligo di far controllare periodicamente e si occorre adeguare i propri impianti termici attraverso manutentori abilitati. I manutentori abilitati devono controllare l'impianto, verificarne l'efficienza energetica, compilare e aggiornare il libretto dell'impianto termico, indicare eventuali operazioni di manutenzione, compilare i rapporti tecnici degli impianti, stabilire la data del controllo periodico dell'impianto termico, occuparsi del versamento al Comune, a carico del responsabile dell'impianto, del contributo impianti termici, aggiornato al 2019, trasmettere tutta la documentazione richiesta al Comune, ricordare al responsabile dell'impianto la data del controllo periodico. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione dei previsti oneri di ispezione e sanzioni. Ricorda, l'importo da versare è determinato dal tipo di impianto, a partire da 13 euro. Controlla sul sito www.comune.napoli.it in quale categoria rientra il tuo impianto.